Grazie a tutti. Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Grazie a tutti. La comunicazione alla Presidenza. Prima di procedere con il primo punto all'ordine del giorno, comunico che sono stati presentati alla Presidenza due mozioni d'articolo 58, uno sull'ipotromo di Capannella e licenziamento di posti di lavoro e un'altra riguardante l'area compresa tra Casalmorena, via Tuscolana e via Quacetosa, cioè via Spadola. Allora, io sospento un attimo il Consiglio e convoco la riunione dei capigruppo. Il Consiglio è sospeso per dieci minuti. Allora, scusate, riprendiamo il Consiglio. Dopo aver sentito il parere dei capigruppo consigliari, la mia scelta, diciamo, è questa. Quando riguarda la mozione d'articolo 58 riguardante i lavoratori di Capannella e posti di licenziamento, siccome giovedì prossimo è stato già caratterizzato un atto sullo stesso argomento, questa mozione, diciamo, sarà discussa insieme alla risoluzione di giovedì prossimo. Quindi io l'acquisisco, ma va in discussione insieme alla risoluzione, ripeto, che è lo stesso argomento. Per quanto riguarda invece la mozione d'articolo 58, diciamo, per capirsi meglio, via Spadola, Allora, nella conferenza di capigruppo il Presidente della Commissione dei lavori pubblici ci ha letto alcuni atti, richieste di interventi che il municipio e gli uffici hanno fatto sia alla CEA che ai dipartimenti e adesso, diciamo, quello è più importante, il Presidente della Commissione vi leggerà. Abbiamo, diciamo, l'orientamento è quello di acquisire questo articolo 58, di non discutere oggi però, ma di fare una commissione venerdì prossimo su questo argomento, soltanto su questo argomento, chiedendo la presenza dell'assessore e degli uffici, diciamo, competenti su questo. Per permettere, perché diciamo che l'articolo 58 è una modalità eccezionale di cose di cui non si è mai parlato, dall'ora del Consiglio si fanno questi articoli. Siccome, diciamo, già in qualche precedente commissione di questo argomento se ne è parlato, c'è l'impegno, adesso vi confermerà il Presidente della Commissione, su questo affare, una commissione solo su questo venerdì prossimo, cioè non domani, venerdì 26, e dopo chiedendo la presenza dell'assessore degli uffici competenti. Prego, Consigliere Cofano, di leggere, diciamo, la richiesta di ghiatti, la richiesta di intervento che hanno fatto gli uffici. Grazie, Presidente, consiglieri tutti. Allora, rispetto appunto all'origine dell'articolo 58 che appunto presuppone un carattere d'urgenza per cui di un evento susseguito, diciamo, nelle ultime ore o estremamente recentemente, il caso di Via Spadola è una situazione che i cittadini chiaramente in stato di disagio stanno vivendo da diverse settimane e in queste settimane il tema è stato portato all'attenzione mia anche dalla consigliera che ha portato l'atto oggi in aula, ma anche da altri consiglieri, tra cui il consigliere esteritano che non è presente. Rispetto a questo noi abbiamo svolto lo scorso venerdì, mi sembra che fosse il 12, invitando l'ufficio tecnico in municipio. È venuto il geometra Giorgi che ha espresso e ha anche dato nero su bianco quali fossero stati i passaggi amministrativi per cui l'ufficio tecnico ha avviato l'iter. Iter che è comunque ovviamente di una situazione piuttosto complicata, ma rispetto alla corrispondenza il 3 febbraio del 2016 c'è stata la prima richiesta comunque da parte dell'ufficio tecnico in cui si ravvisa il fatto che Via Spadola non risulta inserita nell'elenco di viabilità in consegna al municipio per le attività manutentive. E quindi è stato richiesto alla Polizia Locale, al comando di Polizia Municipale, di svolgere anche il censimento, l'attività comunque anagrafica rispetto ai proprietari frontisti della stessa via. Due giorni dopo, il 5 febbraio, l'ufficio tecnico ha scritto all'AMA e alla CEA, nella fattispecie all'AMA richiedendo comunque che a seguito dell'interdizione del traffico veicolare sulla strada, in corrispondenza appunto dei due ponti sui fossi, e considerati appunto non sicuri sotto il profilo della pubblica incolumità dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma quando sono intervenuti sul posto, si è richiesto ad AMA la ricollocazione dei cassonetti posti sul tratto di Via Spadola intercluso, al fine proprio di permettere l'accessibilità dei mezzi dell'AMA e la continuità chiaramente del servizio di raccolta dei rifiuti. In parallelo è stato richiesto ad ACEA Ato 2, quindi il principale interlocutore della vicenda, che riguarda il ponte in muratura, stante la presenza appunto di strutture fognarie a carico della stessa ACEA, le quali hanno ridotto la sezione del fosso, si chiede di verificarne in via emergenziale la stabilità, nonché appunto l'incidenza sulla stabilità dello stesso ponte. Questo appunto è stato richiesto ufficialmente il 5 febbraio. Ad ACEA Ato 2 è stato anche richiesto appunto rispetto al ponticello esistente al civico 194, inibito al transito a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, di valutare la possibilità della posizione delle pedane metalliche, supportate dalla struttura in carpenteria metallica al fine di consentire un ripristino temporaneo del transito veicolare. A seguito di questi passaggi l'ufficio tecnico è stato convocato appunto nella giornata di venerdì 12 in commissione e la posizione del geometra Giorgi è stata esattamente questa qui, per cui il sollecito da ACEA Ato 2 è stato già posto, le richieste, ho letto, le legittime richieste che vengono dall'articolo 58 sono esattamente dentro questi carteggi, per cui io l'impegnativa che ci siamo dati anche in sede di Capigruppo è stato quello di fare un ulteriore passaggio il prossimo venerdì, giorno della convocazione ordinaria della commissione, con la presenza dell'assessore ai lavori pubblici e l'ufficio tecnico, proprio per rendi contare maggiormente qual è lo stato emergenziale dell'arte della situazione. E chiaramente in parallelo noi continuiamo sempre a sollecitare e a spingere ACEA Ato 2 affinché ottemperi a quelli che sono le reali esigenze. Grazie. Ricordo al Presidente della commissione di estendere l'invito anche ai cittadini di via Spato, in modo che possono essere presenti. Va bene? Allora, non è possibile la discussione consigliera Lenci su questo. Mi dispiace. Allora, passiamo al primo punto, perché se do la parola a lei... questo Presidente, siccome sto portando avanti io questa battaglia, e come è stato detto sono parole, perché qui continuiamo a fare parole... Consigliera Lenci, non è possibile, se do la parola a lei, devo aprire la discussione a tutte, quindi non è possibile. Allora, passiamo al primo punto, consigliera Lenci, non è possibile, grazie. Lo so che non è possibile, lo dico pure io, non è possibile. Primo punto, all'ordine del giorno. Approvazioni verbali 1, 2 e 3, delle sedute di consiglio 2016. Se ci sono osservazioni di merito sui verbali, vengono, se siete pregate di dire, se non ci sono osservazioni di merito, vi diamo per approvati. Non mi sembra che ci siano osservazioni, quindi i verbali sono approvati. Secondo punto, proposte delle liberazioni aventi ad oggetto riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore della signora Improta. Presidente della Commissione, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti i colleghi, agli uffici e ai cittadini presenti. Dunque, avendo un ordine dei lavori molto ricco, sarò più breve possibile, anche perché ci troviamo di fronte ad un atto, insomma, ad uno di quegli atti che sono poco più che una presa, diciamo, una presa d'atto, mi scuserete il gioco di parole, su un debito fuori bilancio relativo ad una richiesta di danni da parte di una signora in seguito ad una caduta nel territorio dell'ex nono municipio. Il grosso del risarcimento è stato fatto dall'assicurazione della ditta che aveva in carico la via per dei lavori al momento dell'incidente. Insomma, c'è una sentenza del Tribunale di Roma, ci sono tutti i pareri favorevoli dell'Oref, della Ragioneria Generale e, per quanto riguarda il municipio, del direttore dell'UoT, anche come Commissione abbiamo dato parere favorevole per quello che, insomma, per una questione che, appunto, è quasi un atto dovuto e parliamo poi, insomma, di una cifra abbastanza piccola, insomma, di minima entità, cioè sono circa 4.500 euro, appunto, il residuo tra quello che ha pagato l'assicurazione e la somma che è stata riconosciuta la signora da parte del Tribunale. Io non so se possiamo... Per favore, per favore, scusate, prego consigliere. No, niente di più da dire. Scusate, non è possibile... Ma noi stiamo in galera! Lo sappiamo, purtroppo, lo sappiamo, non è possibile, non è possibile, scusate, lo sappiamo... Ma noi stiamo in galera! Non lo sappiamo, allora... Hai capito, non hai capito? Lo sappiamo... E allora prenda, chiamala, c'è, ti pone... Gli uffici l'hanno già fatto, gli uffici l'hanno già fatto... Gli uffici l'hanno già fatto, 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 ma noi stavamo ancora così... Ma per altri giorni, se non andai tu vanno a lavorare... Per riportare un po' di calma, grazie... Ma come scusi? Noi stiamo in galera! Lo sappiamo... Allora, prego, signor Laddaka... Signor Laddaka, prego... Io ho finito, presidente, penso che... Un attimo di pazienza... Scusate... Scusate... Per cortesia... Per cortesia... Allora... Per favore... Abbiamo discusso insieme, non abbiamo sbagliato... Allora, prego, consigliere Laddaka... Prego, consigliere Laddaka... Vabbè, hai ammesso che è una marchetta... Usate per cortesia... Va bene così... Va bene così... Va bene... Parole che usate solo voi... Io non ho detto niente... Hai ammesso che è una marchetta... Va bene così... Va bene... Prego, consigliere Laddaka... Io non ho altro da dire, presidente... Insomma, se non che appunto in commissione abbiamo analizzato le carte... Abbiamo dito gli uffici... E ci sembra che non ci sia nulla da dire se non votare favorevolmente a quest'atto... Grazie... Grazie a lei... Allora, apriamo la discussione... Ci sono richieste interventi... No... Ci sono richieste interventi... No... No... Passiamo alla votazione... Allora... Chi è favorevole? Allora... Poi... La russa... 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 Viglia... E adesso lo vediamo... E adesso lo vediamo... Adesso lo vediamo... Chi è... Chi è contrario... Chi si astiene? Chi si astiene? Puoi anche aspettare. Allora. Abbiamo 11 voti a favore, 7 voti, 8 voti a favore, 3 contrari, 11 voti, quindi non c'è il numero legale. Quindi sospendo il Consiglio, tra 15 minuti rifaccio l'appello. Il Consigliere ha riprenduto il posto, vediamo se siamo in condizione di riprendere la seduta. C'è ancora qualche Consigliere? Scusate. Allora. Consigliere Poli. Si, richiamo al regolamento, Presidente. Sono anche scrutatore della seduta, per cui debbo rilevare che al termine della votazione non c'è stato il numero legale. e lei ha deciso, insomma, di sospendere la seduta. Ovviamente quando è sospesa i consiglieri non possono parlare, per cui non ho proceduto in questo senso. Io chiedo, quantomeno agli uffici, l'articolo 55,2, prevede che le sedute di seconda convocazione abbiano luogo quando le deliberazioni della seduta precedente non abbiano un numero legale. Se si vuole procedere, chiederei il supporto agli uffici, se questa è una procedura che si può fare. non ho problemi, insomma, però... Però il secondo comma, articolo 54, dice che quanto si è accertato, mediante appello di quel precedente comma, nel corso della figlione, per qualsiasi causa che il Consiglio non è adonato il numero legale, il Presidente sospende la seduta per 30 minuti ai fini di altro appello, ovvero, apprezzato le circostanze, la toglie. La seduta è comunque la volta alla seconda mancanza consecutiva del numero legale. Se adesso rifacciamo, se di nuovo non c'è il numero legale, la seduta scioglie. Era un dubbio, nulla, insomma, però per una questione di correttezza formale per tutti, non vorrei che poi, a posteriori, ci trovassimo poi contestazioni sulle nostre votazioni. Quindi non era una critica alla Presidenza. Allora, scusate, qualsiasi tra le vicine? Righiamo al regolamento? No, righiamo a lei. No, scherzo. Mancava lo scrutatore. Sì, sì. Quindi quello forse bisogna rinominare, anche prima durante la votazione. Grazie. Allora, non so se la Consigliera Lenci è andata via, però diciamo adesso procediamo, facciamo l'appello. Poi, Consigliera Lenci, stiamo facendo l'appello di nuovo per cortesia. Allora, se procediamo alla votazione, campiamo l'ascutatrice. Prego. Fantino, Belisario, Belisario, non ho sentito, mi scusi. Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cercuoni, Ciancio, Cofano, Coglia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Quattordici consiglieri presenti, quindi possiamo procedere con la seduta. Sostituisco come scusatrice la Consigliera Lenci con la Consigliera Tredicina. Allora, procediamo alla votazione. Allora, procediamo alla votazione, che prima non ha avuto il numero legale della proposta numero 2, debito fuori bilancio, che è stata già illustrata. Chi è favorevole? Allora, Poli, Carrus, Caccamo. Chi è contrario? Nessuno. Si astengono? Chi si astiene? Consigliera Notto. Quanti? All'11 voti a favore, un astenuto, due contrari? No, nessun contrario. No, no. Due contrari. Un astenuto. Due contrari, un astenuto. Tredicine, Carlone, contrario. No, l'abbiamo visto male, per me erano astenuti, invece era rimasto. Allora, 11 voti a favore, due contrari, un astenuto, quindi l'atto è approvato. Passiamo al punto numero 3, che riguarda la delibera sulla composizione delle commissioni consigliari che si è resa necessario dopo il passaggio della consigliera Lenci dal gruppo misto al gruppo Forza Italia. Al 99% la composizione delle commissioni è rimasta la stessa, identica. C'è stata qualche motifica che riguarda, diciamo, una motifica che riguarda la consigliera Lenci perché per il riequilibrio della presenza nelle commissioni del gruppo Forza Italia aspettavano quattro posti, quindi sono state riviste, che avete già la delibera visionata, sono state riviste un po' le presenze della consigliera Lenci in alcune commissioni. Contemporaneamente la consigliera Lenci si è dimessa dalla vicepresidenza della commissione scuola e della commissione legalità e sicurezza. Le stesse commissioni, alla prima seduta, prima di procedere a qualsiasi altra discussione, devono procedere alla elezione del nuovo vicepresidente. Poi è stata modificata la commissione controllo e garanzia, in quanto è uscito il consigliere di Forza Italia, è stato, per riequilibrio tra il numero dei consiglieri di ogni gruppo, è riequilibrata con l'ingresso di un componente del gruppo PD. L'altra, poi non mi sembra che ci siano state alcune siano state alcune siano elelli, che da due commissioni è stato spostato in altre due commissioni. Queste sono state le motifiche rispetto alla precedente composizione delle commissioni. Allora, ci sono richieste di interventi, apriamo la discussione su questo. Allora, consigliera Carlos, prego. Scusate. Presidente, colleghi consiglieri, salve. Intervengo in merito alla delibera, lo dico in modo molto chiaro, non di certo per giudicare quelli che sono i passaggi di una consigliera da uno schieramento di maggioranza a quello opposto, perché sono scelte che non divido, ma certamente le ritengo legittime. Voglio però entrare nel merito di come in questi anni i vari passaggi da un gruppo all'altro siano stati in qualche modo anche strumentalmente utilizzati politicamente. Lo dico perché, se non sbaglio, spero di non sbagliare i periodi, ma se non erro, dal 2014, periodo in cui ci fu un primo cambiamento del posizionamento politico, passando dalla lista civica per Marino al gruppo misto, ad oggi tale tema non è stato affrontato. Mi spiego meglio. Già nel 2014 tale passaggio prevedeva alcune modifiche all'interno delle composizioni delle commissioni, ma non essendo stata ufficialmente dichiarata la partenenza alla maggioranza o all'opposizione, in quanto nessuno di noi, per prima la presidenza, sapeva collocare come membro di maggioranza o di opposizione, tale gioco politico o tale discussione politica di fatto ha permesso di fare il bello e il cattivo tempo, considerando un giorno un componente di maggioranza e un giorno un componente di opposizione. Inoltre aggiungo che dopo la prima forzatura, che è stata avallata anche dalla presidenza, tale tema doveva forse essere affrontato anche seguito nel passaggio successivo, quando anche la consigliera Lanotte, nel 2015 a novembre, è passata da Cittadini per Roma al gruppo misto. Di fatto, questo ha comportato già ulteriori disequilibri nella composizione delle commissioni. Io chiedo come mai non si è voluto affrontare tale tema precedentemente, in quanto comunque si rende... In quanto la consigliera passa dal gruppo misto oggi a Forza Italia, e di conseguenza se lo affrontiamo oggi è solo perché obiettivamente c'è una necessità, in quanto cambiano le composizioni da parte della maggioranza e dell'opposizione. Quindi è necessario esplicitare l'appartenenza ad un partito di opposizione, e quindi è necessario chiarire le composizioni delle commissioni stesse, spesso non composte, secondo come in qualche modo dovranno essere composte. Mi dispiace anche che sia stata poi messa all'ordine del giorno, così la delibera, anche perché in base anche alla direttiva ricevuta dal dirigente ci sono le 48 ore, come appunto prevede la circolare, e quindi la delibera senza il testo allegato perviene soltanto oggi in consiglio e personalmente credo affronti un tema che volutamente, politicamente non è stato trattato fino ad oggi. Grazie. Altro intervento? Consiglio Valenci. No, mi scusi, mi dispiace perché poi una parte del discorso non ho seguito. Per quanto riguarda... Per quanto riguarda... Per quanto riguarda... Io prima, siccome abbiamo proceduto alla votazione, ho dovuto sostituirla come scudatore del Consiglio. Va bene, tanto non importa. Il problema è... Cioè, mi dispiace perché non ho seguito in quanto ero fuori con i cittadini. Mi sembra però di ricordare, se non sbaglio, che quando ci fu il passaggio in gruppo misto era stato fatto un discorso nei capigruppo per quanto riguardava e siccome non andava a intaccare nessuna situazione, non abbiamo pensato che era il caso di dover cambiare qualcosa. E così è stato quando poi entrò anche Stefania, anche perché si parlava di un gruppo misto, quindi non aveva nessuna appartenenza politica. Oggi, logicamente, con il mio ingresso in un gruppo politico, la cosa è cambiata. Abbiamo cercato di fare le cose nel modo più... Abbiamo visto le percentuali con gli uffici tecnici. Quindi, forse perché non ho seguito, ma non riesco a capire francamente il problema dov'è. No, io devo precisare che, come diceva la Consigliere Alenzi, nei precedenti campiamenti, per decisione unanime della conferenza dei capigruppo, siccome non veniva alterato niente, diciamo, decisione unanime di tutti i capigruppo, diciamo, si era deciso di non procedere a una rivisitazione della composizione delle commissioni. Questa volta il discorso è sicuramente diverso, che c'è il passaggio non a gruppo misto, ma a un gruppo politico di opposizione dichiarata e quindi, anche d'accordo col direttore e con gli uffici, si è reso necessario procedere al riequilibrio e alla nuova composizione della commissione. Allora, altri interventi? Consigliere Poli. Grazie Presidente. Colleghi, cercherò di essere meno ruvido dell'intervento che mi ha preceduto, ma, per onor del vero, debba innanzitutto segnalare che la proposta di delibera riporta due volte la stessa commissione, quindi se sarà, voglio dire, un refuso del tali dattilografico, quindi la commissione di regolamento è ripetuta due volte nel testo della delibera. Se proprio dovessimo andare a esaminare gli atti, passiamo prima alla commissione legalità e sicurezza. Allora, il testo del dispositivo del Presidente del Consiglio fa riferimento sia all'articolo 99 del Consiglio Comunale che al regolamento del Municipio. Questo fatto pone nella evidenza forse di un ibrido che poi ne è uscito. Ripeto, il mio intervento non è ruido, nel senso che vorrei riportare le cose nel giusto alvio, per cui se gli uffici certificano che tutto quello che è successo va bene, non ho nessun tipo di problema, ma lo certificano gli uffici però. La commissione, questa legalità e sicurezza, l'articolo 99 del regolamento del Consiglio Comunale, rimette all'organo, quindi il Consiglio del Municipio, il numero dei componenti, precisando però che i componenti debbano essere previsti in numero proporzionale. Allora, se oggi la collega Lenci, che è passata al gruppo di Forza Italia, è legittimamente inserita nella commissione, se facciamo queste cose significa che fino adesso non è giusto che ci sia, perché c'è anche la collega, la notte, due del gruppo misto, se deve essere proporzionale, allora il PD quanti ne deve prendere? Nove. Capito? Ok. Sto dicendo, è l'ultimo dispositivo sulla commissione legalità e sicurezza, quindi, allora, se con la delibera noi intendiamo sanare tutta una serie di cose, lo scriviamo in delibera, considerato che è necessario sanare, saniamo anche la disposizione del Presidente. Per ciò che attiene la commissione controllo e garanzia, che qui non è citata, però il Presidente ne ha fatto cenno nella sua esposizione, l'articolo 97 del regolamento del Consiglio Comunale prevede che i componenti siano il Presidente più 11 designati, sempre rispettando la proporzione numerica. Il regolamento del nostro Consiglio prevede che ci sia un Presidente designato, due Vice Presidenti designati, di cui uno dalla maggioranza, più uno, un consigliere per gruppo. E qui allora c'è qualcosa che non quadra, perché un Vice Presidente è un Vice Presidente designato dall'opposizione, un Vice Presidente designato dalla maggioranza e un componente per ogni gruppo. Considerato che la composizione della commissione non è a 12, mai a 11, presuppongo che non si sia fatto riferimento al regolamento del Consiglio Comunale, ma al regolamento del Consiglio Municipale. E allora ci sono componenti che non ci debbono essere, perché è uno per gruppo. Quelli? Per me, no? Quelli che sono corretti, perché sono quelli più numerosi e ci trovano una strada. Quindi, uno per gruppo. Quali sono tre? C'è il Vice Presidente che è il Consigliere Stelitano e poi c'è il Consigliere Comunale. Comunque, scusate, la commissione contro le garanzie, però, non fa parte di questa delibera. È una disposizione che fa il Presidente del Consiglio. Perfetto. Quindi non è in discussione oggi. Però, vabbè, considerando che ne stiamo parlando, lei ne ha fatto cenno, e quindi mi sembrava corretto ristabilo. Quindi pregherei gli uffici di verificare quanto ho detto, perché posso anche sbagliare, non ci mancherebbe altro, anzi sicuramente sto sbagliando, però a naso, st'operazione, insomma, non mi convince molto. Grazie. Grazie. Altri interventi? Consigliere Raddaca, prego. Grazie Presidente. Io ho un paio di dubbi sulla delibera e mi dispiace ma l'abbiamo avuta solo all'inizio del Consiglio, quindi non ho potuto esplicitarli prima. a parte che nella narrativa a pagina 2, al terzo capoverso, ma credo sia una dimenticanza, però non si cita la Commissione Legalità e Sicurezza, che invece si cita nel dispositivo, quindi si parla solo di quelle permanenti e solo di quel regolamento come speciale. e poi volevo sapere dalla Presidenza come mai non si parla della Commissione Print in questa delibera, che è una Commissione speciale, al momento è sospesa da indicazioni del Campidoglio, però è sospesa, non è annullata o revocata. Visto che la consigliera Lenci fa parte di questa Commissione e sappiamo quanti problemi ha causato questa Commissione in questa Consigliatura, e visto che ne è Vice Presidente e di quella Commissione fanno parte solo i capigruppo, io credo che questa delibera sia mutila e in questo momento, per quanto mi riguarda, non votabile, se parliamo di risistemazione delle Commissioni Consigliari. E in più, mi duele far notare, ma l'ho fatto notare in questi mesi più volte, forse dalla Vicepresidenza della Commissione Scuola la consigliera Lenci avrebbe dovuto dimettersi quando è passata dalla maggioranza all'opposizione, visto che siamo stati per un anno e mezzo con una Commissione consigliare permanente che aveva due Vicepresidenti di opposizione. Grazie. Allora, per favore, devo fare alcuni chiarimenti, scusate. non è un battibecco, il Consiglio è la Lenci, per cortesia. Scusate, ma posso chiarire o no? Posso chiarire o no? Allora, fermo restanto che, quanto riguarda la Commissione a printa, la Commissione a printa è sospesa. La Commissione a printa non è stata fatta con la delibera iniziale delle Commissioni. Il momento in cui, ormai siamo alla fine della Consigliatura, si dovesse convocare la Commissione a printa, è chiaro che non può essere convocata con quella composizione. E quindi si tratta di tornare in aula e rivedere la composizione della Commissione a printa. Per quanto riguarda la presenza della Consigliera Lenci nelle commissioni, la Consigliera Lenci dal gruppo Lista Civica Marina era passata al gruppo Listo, non specificando né l'appartenenza alla maggioranza, né l'appartenenza ai gruppi di minoranza e di opposizione. Quindi si è potuto procedere. Tengo anche a precisare, però, che questa cosa, nelle riunioni dei capi gruppo, se ne è parlato e non è stato mai messo in discussione. Quindi adesso venire in Consiglio, Consigliera Lattaca, lei è il capo gruppo, quindi ha partecipato alle riunioni dei capi gruppo quando abbiamo rienuto opportuno di procedere alcune variazioni e tutti d'accordo di procedere in quel modo. Adesso non è più possibile perché è passato un gruppo misto a un gruppo formalmente istituito e quindi è stato necessario procedere in questo. Questo è per quanto... Allora, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 6 E da gli 11 è 6 5 fa 16 giusto? Quindi dovranno essere 9 è approvata come 11 voti favorevoli è approvata con 11 voti a favore e l'astenzione di 6 consiglieri leggo i nomi Poli Carrus Laddaca Cofano Benassi e basta. Allora votiamo l'immediata eseguibilità per poter permettere alla Commissione di lavorare già da lunedì di questa delibera chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora l'immediata eseguibilità non è concessa quindi la Commissione finché non riportiamo in consiglio mi dispiace per i consiglieri ma le Commissioni sono sospese fino a nuova disposizione allora procediamo scusate per favore allora devo mettere scusate un attimo scusate prima di procedere all'altro punto scusate ognuno si assume le proprie responsabilità allora vediamo scusate 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 per favore prima per quanto riguarda scusate consigliere madrolla per cortesia allora consigliere madrolla per cortesia prima di ufficio ma non ho chiesto l'immediata eseguibilità della delibera debito fuori bilancio non l'abbiamo messa in votazione la metto in votazione adesso chi è favorevole all'immediata eseguibilità della delibera fuori bilancio debito fuori bilancio chi è contrario chi si astiene però scusate quanto consigliere carlone mi raccomando quanto si ruota non è concesa non è concesa non è concesa neanche questa debita fuori bilancio di dire la signora in pota aspetterà ancora altri dieci anni per avere il rimborso credo che stiamo facendo un capolavoro di consigli allora andiamo alla proposta numero 4 proposta di risoluzione inserire dei consiglieri Lancia e ciancia vento tolgetto marciapieti via furio camillo consiglieri Lancia vuole illustrare sì nel 2007 è stata riconsegnata doveva essere riconsegnata al comune l'area di superficie sopra il parcheggio sotterraneo o il pup di via furio camillo l'area era stata riconsegnata in cattive condizioni il progetto era stato fatto male quindi il comune non ha acquisito al suo non l'ha ripresa in carico posso? grazie e naturalmente il marciapiede quindi era già sconnesso nel 2007 e c'è stata una mancanza di controllo sia da parte degli organi tecnici del comune e del municipio sia da parte del responsabile unico del procedimento che è l'ufficio parcheggi posso? allora è vero che quando i consiglieri lo riterranno parlerò allora prego consigliere all'ancia presidente si è su vabbè per favore allora il problema è questo la ditta che doveva rifare i marciapiedi è fallita però è fallita cinque anni dopo aver consegnato il lavoro aver cercato di consegnare il lavoro quindi in cinque anni il dipartimento il municipio e l'ufficio parcheggi avrebbero dovuto costringere la ditta a rifare il lavoro malfatto perché era già malfatto dall'inizio questi due marciapiedi sono totalmente sconnessi sono fatti a betonelle ci sono due denunce a settimana di persone cadute in questi marciapiedi i marciapiedi non si possono chiudere visto che ci sono dei portoni che si aprono sugli stessi e la gente deve anche uscire da casa e quindi noi chiediamo che il comune non scarichi sui cittadini le sue mancanze le sue colpevolezze ma rifaccia immediatamente i marciapiedi che sono rischiosi e pericolosi sono anche costosi perché due denunce a settimana come abbiamo visto prima col debito fuori bilancio comunque al comune costano e li faccia in danno da accertare cioè li faccia avvii un procedimento per accertare chi è che non ha controllato chi non ha verificato chi non ha costretto la ditta a rifare il lavoro e intanto faccia il lavoro il comune e poi si recupera i soldi sui responsabili della situazione grazie grazie a lei consigliere Lancia apriamo la discussione chi è che vuole intervenire consigliere cofano prego grazie presidente consiglieri allora il tema di Viale Furio Camillo è un tema piuttosto spinoso data la difficoltà che c'è stata in sede anche di un di un tema piuttosto complicato sia quello delle opere da scoputo da parte dei concessionari che hanno realizzato i PUP ed è stato un tema piuttosto disagevole per i residenti della strada in quanto oggi ormai a distanza di nove anni dalla realizzazione e dall'assegnazione appunto del parcheggio sotterraneo di Viale Furio Camillo ma ormai sono appunto tre anni buoni che le betonelle della strada come ha già ricordato la consigliera Lancia sono disastrate chiaramente noi non possiamo più rimandare non lo possiamo fare non lo avremmo dovuto fare la palla al balzo dicendo che comunque il passaggio ormai è un contenzioso che va risolto in procura sì quello è un contenzioso che va risolto in procura però bisogna trovare lo strumento eventualmente emergenziale in questo caso visto che la strada comunque è di competenza insomma comunale che comunque il concessionario non ha ottemperato integralmente a quello che erano i propri oneri di trovare uno strumento spero che insomma con questo atto si riesca a sollecitare un minimo l'intervento perché oggettivamente stanno cadendo le persone cadono tutti i giorni a me insomma è capitato più di qualche persona che me lo ha che me lo ha rammentato per cui insomma ringrazio la consigliera Lancia di averlo portato all'attenzione della commissione in commissione di questo tema se ne è parlato è stata è stata votata a maggioranza penso che anche oggi possa esprimersi in questo senso l'aula grazie grazie a lei consigliere Cofano altri interventi consigliere Stavitano grazie presidente parlo perché allora io ringrazio veramente lei presidente della parola e la consigliera Lancia anzi con l'occasione colgo per fare gli auguri di buono nomastico che oggi è Santa Cinzia presidente bravo presidente avrebbe dovuto informarsi sull'onomastico del giorno detto questo detto questo la mia preghiera preghiera l'altro giorno in commissione in commissione avevamo detto avevo suggerito di intervenire con velocità della luce prima che casca un'altra volta mia cognata che poi viene a casa dice ma non hai fatto niente te l'avevamo chiesto è inciampata si è rotta il naso che mi dispiace al 100% di mia cognata lo confesso non mi dispiace però però vi confesso che questo problema perché mia cognata ha i soldi se può permettere il lusso di fare intervento chirurgico però la vecchietta che abita lì vicino no che prende 500 euro di pensione al mese che deve avere il santo in paradiso al pronto soccorso perché sennò si fa tre giorni di pronto soccorso si deve intervenire urgentemente mi dispiace che c'è un argomento così importante e l'assessore non c'è e la giunta non c'è io metterei morgia di sorveglianza a dirigere il traffico che non ci deve passare nessuno là dentro non ci deve passare nessuno presidente perché risuccede un'altra volta va recintato come è stato fatto a via Spadola i vigili del fuoco lo devono chiamare lì come qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco perché bisogna c'era questo torrente che stradipava che si doveva intervenire sei mesi fa quando a settembre c'è stato già la stessa cosa adesso c'è questa mozione che io ringrazio veramente che io non sono bravo a preparare i documenti di portare in aula perché c'è un gruppo c'è una dei presidenti di commissione che lavorano e perciò devo dire che Cofano ultimamente è molto migliorato devo dire che è finita la consigliatura no perché adesso qui si parla di equilibri di commissione ci sono presidenti di commissione che non hanno diritto di stare dove stanno perché da come siamo partiti a oggi dovrebbero avere il buon gusto di dimettersi il povero Ciancio che era presidente di una commissione come si chiama quella commissione print che io non ha la pena so che cos'è so che però l'urbanistica dove si trovano studiati di print doveva lavorarci invece ha fatto orecchio da mercato o era troppo impegnato perché urbanistica ama stanno cambiando i cassonetti e noi non abbiamo fatto un consiglio aperto sull'ama ma io dico se uno è incapace di gestire una commissione dovrebbe avere la capacità e l'intelligenza morale di dire non ce la faccio allora detto questo questo argomento di queste betonelle maledette va affrontato subito col più presto possibile perché va risolto il problema se non rischiamo che dobbiamo dare altri 4.000 altri 8.000 e finisco grazie presidente mi scuso del tono ma la politica senza passione nuoce gravemente alla salute di questi poveri cristi che rispondono a quale logica di corrente di cordata di mozione di sottocommissione di qualche interesse banale perché poi devono avere il coraggio di guardare i figli adesso che sono piccoli e dopo quando diventano grandi dice guarda che facevo io quando vergogna grazie altro intervento consigliere grazie presidente io vorrei legarmi al discorso che ha fatto adesso Seritano che qualcuno ha anche dissentito io invece approvo appieno quello che ha detto vorrei ricordare ai consiglieri che hanno votato prima non hanno votato l'eseguibilità della delibera che abbiamo dei problemi che vanno risolti subito anzi dovevano essere già risolti quindi se per questo è per fare un dispetto visto che ormai poco importa chi sta nelle commissioni perché manca un mese e mezzo quindi questo problema bisognava richiederlo prima per quanto riguarda prima qualcuno che diceva la commissione print però siamo nel merito della risoluzione dico che spero che i cittadini ricordino le persone che hanno fatto questo grazie altri interventi consigliere Raldaga grazie presidente io ringrazio i premonenti di questa importante risoluzione e spero che i cittadini ricordino chi si è presentato in una lista e le prossime elezioni starà dalla parte opposta grazie mille continuano a non carire va bene altri interventi consigliere Carlone devo rispondere pure io devi fare l'intervento in merito alla risoluzione infatti lo faccio in merito alla risoluzione visto che il problema di via Furio Camillo lo conosciamo già da anni e non si risolve presumo che non lo risolveremo nemmeno noi anche perché sembra e penso che qualcuno lo sappia la ditta che ha eseguito i lavori ancora non ha collaudato per cui il comune ancora non è non ha preso in consegna tutto quello che deve prendere in consegna i lavori delle betonelle credo che non si possa nemmeno fare finché la ditta non darà in consegna al comune l'atto finito questo è quanto quindi al cittadino che gli dobbiamo dire gli dobbiamo dire che non si può fare in quanto la ditta che ha eseguito i lavori non ha mai fatto il collaudo e quindi il comune se ne lava le mani questo è quanto volevo dire io grazie consigliere Carloni sempre sempre puntuale allora altri interventi non ci sono passiamo a dichiarazione di voto scusate dichiarazione di voto ci sono dichiarazioni di voto consigliere Benassi Persell prego grazie presidente colleghi e colleghi dunque il voto di sinistra ecologia e libertà sarà favorevole favorevole per questo atto sicuramente è un atto che andava fatto dopo che comunque per diverso tempo durante questi grandi di consigliatura molti cittadini di quella di quella via ci hanno chiesto come mai non si potesse risolvere questa annosa questione quello che però è anche va anche detto è che purtroppo le betonelle di via Furro Camillo non sono le uniche ad essere dissestate ce ne sono molte altre come per esempio quella di via delle cave per non parlare del percorso di agevolazione per i non vedenti a largo dei colli albani vicino alla fermata degli adubs che è completamente completamente diverto quindi è poco utile per cui quello che ci si augura è che da parte della futura amministrazione che si insiederà nei prossimi mesi ci siano attenzioni tutte queste situazioni di lavori fatti fatti male e poi non diciamo rimessi a posto grazie altri interventi no cioè siamo a dichiarazione di voto scusate consigliere l'Alancio gruppo PD naturalmente il gruppo PD è favorevole il problema del collaudo non riguarda soltanto Furro Camillo riguarda tantissime parti di questo municipio e forse è ora di non rimanere lì ad accettare i passivi e muoverci perché il comune cambi le sue regole perché non può essere fatto pagare ai cittadini l'incapacità del comune di effettuare i controlli se di incapacità si è trattata e non di qualche altra cosa grazie altre dichiarazioni di voto non ci sono passiamo alla votazione chi è favorevole diciamo la contraprova veloce chi è contrario nessuno chi si astiene nessuno provato con 15 voti a favore nessun contrario nessuno astenuto siamo al punto numero 5 mozione a firma di diversi consiglieri vitrotti lancia cuigliotta caccamo lozzi carrus cofano avente ad un certo situazione casale delle carrozze chi è che illustra l'atto consigliera caccamo prego questa mozione è stata condivisa da diversi consiglieri si prefigge lo scopo di puntare i riflettori su una questione che per troppo tempo è rimasta inascoltata la questione riguarda il casale delle carrozze appunto un casale antico che si trova tra via Scintu e via Viale Pelizzi all'interno di un parco comunale e che oggi e già da molto tempo si trova in precarie condizioni statiche questo casale è stato preso in carico dall'ex municipio decimo nel 1988 ed è stato affidato alle cure del servizio giardini tale struttura risulta però abbandonata ormai da diverso tempo e in questo tempo è diventato ricovero di alcune famiglie senza fissa dimora nonostante sia stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco nel 2011 a causa di un incendio che ha provocato il crollo del solaio quindi abbiamo pensato di proporre questa mozione perché siamo preoccupati per l'incolumità delle persone che occupano questo casale e quindi noi vorremmo sollecitare gli organi competenti la giunta la presidente affinché venga trovata per queste persone una sistemazione idonea sicura e possa essere messo in sicurezza questo casale tra l'altro proponiamo anche il recupero di questo casale che potrebbe essere affidato in quanto di proprietà del pubblico in quanto di proprietà comunale potrebbe essere affidato ad associazioni che potrebbero svolgere in quella zona iniziative utili attività utili per il territorio grazie grazie consigliere Caccamo apriamo la discussione chi pensa di intervenire non ci sono interventi passiamo a dichiarazione consigliere Carlone stasera vedo prego sta zitto consigliere Carlone volevo semplicemente dire questo cioè noi a questo punto facciamo come Ponzio Pilato noi ce ne laviamo le mani però dobbiamo dare il pallino in mano alla Presidente perché se stanotte in questo momento o domani avviene qualche disgrazia in quella sede chi è la responsabile ma nessuno si pone sta domanda che poi la magistratura indaga indaga il Presidente o indaga il Sindaco quindi o il Commissario in questo caso e allora noi con questo atto giustamente noi mettiamo le mani avanti e diciamo bene noi l'abbiamo fatto presente chi non lo esegue ne è responsabile grazie grazie a lei consigliere Carlone consigliere Vitrotti prego sì grazie Presidente colleghi consiglieri solo per dire che è così insomma non volevo intervenire però lo stabile attualmente credo che sia ancora occupato quindi abbiamo tra l'altro discusso diverse volte nelle due commissioni sia in quella delle politiche sociali che in quella patrimonio e ovviamente ci aveva convinto l'idea non solo di guardare al valore storico e quindi al recupero dell'immobile per quanto è stato già parzialmente quasi totalmente danneggiato abbiamo visto anche che ci sono dei vincoli archeologici sopra che insomma meritano un'attenzione particolare capiamo che l'interessamento che già negli anni scorsi si era presentato sulla struttura comporta un investimento molto elevato dal punto di vista economico contestualmente però ci sono le priorità e quindi una priorità intanto è capire se là dentro bisogna mettere in sicurezza le persone e quindi bisogna attivarsi affinché non rimanga un luogo di nessuno e dove si può appunto può succedere di tutto come purtroppo è già successo contestualmente credo che l'amministrazione debba avere presente l'altra priorità che è quella di non poter abbandonare diciamo a pochi chilometri da questa sede tra l'altro e di fronte tra l'altro agli studios di Cinecittà che diciamo luogo in cui questo casale nei tempi svolgeva anche una funzione di questo tipo credo che diciamo la vocazione storica di questo territorio che tante volte diciamo portiamo alla nostra attenzione durante le nostre discussioni e le nostre osservazioni non debba venire meno soprattutto se si guarda con attenzione a quello che abbiamo intorno a noi e questo diventa un caso emblematico ringrazio la Commissione e la Presidente della Commissione la Consigliera Caccamo perché è riuscita diciamo nonostante ci siamo messi al lavoro però siamo riusciti a portare a fondo la discussione e credo che mettere intorno ad un tavolo la popolazione residente magari anche i comitati più attivi la facoltà le facoltà universitarie sono diciamo uno strumento le giovanimenti sarebbero diciamo forse interessate a darci qualche idea in più ovviamente guardando a tutti i finanziamenti possibili oggi non ci possiamo neanche nascondere che purtroppo finanziamenti dal punto di vista pubblico sono sempre di meno però progetti da parte di privati o bandi europei che coinvolgono anche i municipi ci sono quindi diciamo bisognerebbe avere un po' di coraggio per guardare è un'indicazione che diamo alla presidenza e a questa giunta spero che venga accolta con favore anche dal resto del consiglio grazie grazie a lei consigliere Penassio Cofano Cofano prego grazie presidente no mi ricollegavo al fatto precedentemente espresso dalla consigliera Vitrotti che ha portato all'attenzione in sede di commissione l'atto che ho condiviso fin dal principio il casale delle carrozze attualmente si è ancora oggetto di occupazione abusiva da parte di famiglie nomadi tra l'altro il NAE intervenne a censirli e insomma erano emerse comunque che c'erano circa 3 o 4 minori all'interno oltretutto fu oggetto 4 anni fa di un incendio piuttosto importante che non solo aveva messo a rischio anche l'incolumità di chi comunque dormiva dentro quel casale ma chiaramente aveva reso maggiormente inagibile il manufatto va ricordato che innanzitutto il casale delle carrozze è esattamente nel quartiere di piscine di torre spaccata che è un quartiere che comunque è già piuttosto compromesso dal punto di vista della fruibilità di alcuni servizi sappiamo tutti che è un quartiere che doveva nascere 20 anni fa in seno al mercato orionale che ad oggi purtroppo non è mai nato non si è sviluppato per tutta una serie di ragioni che non sto qui a specificare sappiamo però che c'è un'esigenza anche di un polo di servizi per la cittadinanza e per i residenti c'è un'importante realtà che il comitato di sviluppo locale che ha avviato nei mesi precedenti iniziative lodevoli però è anche importante riuscire a garantire rispetto allo stato preesistente del quartiere e quindi anche la valorizzazione di un preside di un manufatto come quello del casale delle carrozze attraverso gli strumenti che sono disponibili il project financing oggi è uno di quegli strumenti storicamente negli ultimi anni è stato per molti enti locali regioni e comuni uno strumento per cui si è garantito l'accesso del privato con dei finanziamenti che però ha reso un'attività importante all'interno del territorio coinvolto l'auspicio è proprio questo insomma riuscire a rendere fruibile un pezzetto di storia del nostro quartiere perché comunque quel manufatto era appunto ai tempi di quando Cinecittà Studios era un polo cinematografico mondiale aveva un peso specifico nel corso del tempo appunto anche gli stessi studios hanno avuto poi natura e obiettivi differenti però a maggior ragione un tentativo di valorizzazione del presidio va fatto quest'atto orbita in questo senso e l'auspicio è che gli enti coinvolti e anche il benestare di un privato che si vuole spendere in questo senso possa arrivarci l'auspicio è questo qui quindi spero che l'aula oggi voti convintamente l'atto grazie altro intervento consigliere esteritano prego sì grazie grazie signor presidente signori consiglieri io ricordo un po' un po' la storia nei ultimi dieci anni sull'argomento devo dire che c'era presidente un suo tra l'altro voto su scusate prego consigliere esteritano dicevo presidente che lei non se lo ricorda in consiglio perché non era ancora arrivato ma c'era un bravo presidente della commissione urbanistica di questo municipio il consigliere Eulo Galassi che proprio aveva iniziato un percorso di 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 progetti finanzi perciò aveva iniziato un buon lavoro poi purtroppo non è stato più eletto e allora si è arrenato lì probabilmente la commissione urbanistica che porta male e allora e allora qual è la cosa importante avevamo coinvolto anche l'università di Tor Vergata la facoltà di lettere e filosofia per col professor Salvatori per cercare di fare una sede un po' allargata dell'università e anche lì ci volevano due milioni di euro e perciò noi però dobbiamo fare un'analisi politica vediamo tanti appartamenti a Roma occupati da gente senza titolo anzi gente senza dignità perché spendere pagare senza pagare 10 euro 20 euro 200 100 euro per una casa a piazza Venezia e pensare che c'è gente che con bambini piccoli dorme al piazza delle carrozze secondo me non dovrebbero dormire la notte di rimorso della coscienza però la coscienza non è di questa terra e perciò noi io penso spero e ringrazio le due consigliere che la consigliera Stella che ha lavorato con uno stilicidio per portare a casa questa delibera perché lei l'ha messa sotto il profilo cristiano lei secondo me non ci dormiva la notte al pensiero che può morire un bambino là dentro e questo qui le fa onore altri consiglieri hanno guardato anche il profitto del territorio valorizzare quel quadrante che io l'avrò detta già tante volte questa battuta la dirò un'altra volta qualcuno dirà sempre le stesse battute ma sinceramente quel quadrante è da sistemare da zero e perciò facendo come punto di riferimento il casale delle carrozze e poi no consigliere ma non casco in questo trucchetto che cerca di mantenermi in inganno detto questo io perciò ringrazio la commissione di aver fatto questo buon lavoro spero che la giunta di questo municipio corra subito da tronca e farsi oltre ai topi sistemare quella struttura che tanto i topi a Roma e i sorci a Roma non si tolgono perciò invece trovare uno spazio per dare la possibilità a quei bambini di farsi un bagno in un posto decente e mangiare un piatto di minestra in un posto pulito questo questo sì mi tranquillizza sia sotto privo di uomo di galantuomo e di cristiano grazie altri interventi non ci sono passiamo a dichiarazione di voto ci sono dichiarazioni di voto no passiamo alla votazione chi è favorevole allora facciamo la controprova chi è contrario nessuno chi si astiene allora 16 voti a favore nessun contrario nessun astenuto punto numero 6 mozione una giornata particolare firma i consiglieri della DACA Cato Scandone ed altri consiglieri della DACA la presenta lei prego grazie presidente qualche settimana fa abbiamo approvato in commissione cultura all'unanimità una mozione che proponeva delle iniziative in memoria e ricordo del del regista e autore cinematografico ma direi nel senso più ampio intellettuale italiano del dopo guerra Ettore Scola che come sappiamo tutti è scomparso il 19 gennaio 2016 dopo insomma pochi giorni dalla morte di Ettore Scola con qualche consigliere ne stavamo parlando abbiamo deciso di proporre questa mozione in particolare ringrazio la consigliera Carrus per lo stimolo e per averci lavorato poi ci abbiamo lavorato un po' insieme e anche in commissione cultura con il contributo degli altri commissari abbiamo apportato qualche leggera modifica e insomma nella parte narrativa si ricorda la figura di Ettore Scola e da alcuni tratti salienti della sua vita e del grande apporto al cinema italiano e quindi anche alla città di Roma e in particolar modo al nostro territorio perché per molti anni direi per decenni il cinema italiano è stato cinecittà e quindi è stato il nostro territorio è stato questo municipio e insomma speriamo che possa anche invertirsi una tendenza degli ultimi anni e tornare questa importante insomma industria culturale ma anche importante occasione di lavoro per molti abitanti di questo territorio e quindi nella parte narrativa appunto ricordiamo la figura l'opera di Ettore Scola e nella parte invece risolutiva impegniamo la Presidente la Giunta a promuovere delle iniziative in ricordo della figura di Ettore Scola per tenere viva la memoria della sua arte abbiamo chiesto poi e qui abbiamo avuto un confronto anche con l'assessore alla cultura del municipio che l'eventuale arena cinematografica qualora si rifarà quest'anno nel nostro municipio in particolare nelle sedi nelle due sedi del municipio possa essere dedicata proprio a Ettore Scola o prevedere delle giornate o dei momenti a tema sui suoi film e inoltre insomma impegniamo sempre il Presidente e l'assessore alla cultura ma insomma l'ha giunta tutta a promuovere in collaborazione con alcuni centri che ovviamente sono fortemente caratterizzati per l'attività cinematografica quindi Cinecittà Studios il centro sperimentale di cinematografia e le associazioni di settore una giornata che possa coinvolgere anche le scuole magari con delle proiezioni di film e anche la testimonianza di personalità del cinema italiano che hanno lavorato che comunque hanno conosciuto Ettore Scola ripeto in commissione insomma ci abbiamo lavorato un po' insieme ed è stata approvata all'unanimità quindi anche qui insomma ricordo che le mozioni sono firmate per motivi strettamente insomma di regolamento ma diciamo che è una iniziativa dell'intera commissione cultura quindi insomma mi auguro che l'aula oggi possa approvare quest'atto e che magari prima di prima di decadere dalle nostre funzioni possiamo avere un momento in memoria di questo grande regista grazie grazie a lei consigliere la Daga apriamo la discussione allora chi vuole intervenire consigliere grazie a lei grazie nulla da eccepire logicamente soprattutto quando si tratta di cultura che non è mai abbastanza insomma di ricordare chi ha reso grande il cinema o altre cose mi vorrei augurare che questo modo di portare avanti le situazioni si potessero fare anche laddove le situazioni sono preoccupanti quindi di portare sicuramente la cultura ma portare avanti anche con lo stesso impeto i problemi che sono sul territorio e che stanno creando delle situazioni preoccupanti per quanto riguarda l'accusa che prima mi ha fatto il presidente della commissione della Daga siccome sono una persona educata dico solo che la distanza che mi ha portato dove sono oggi è stato un percorso lungo quasi due anni ed è la distanza giusta nella quale mi comincio a sentire meglio grazie altri interventi non ci sono passiamo alle dichiarazioni di voto ci sono le dichiarazioni di voto no passiamo alla votazione chi è favorevole facciamo la controprova chi è contrario chi si astiene 16 voti a favore nessun contrario nessun astenuto allora adesso ci sono i punti numero 7 e numero 8 che sono argomenti molto molto simili collegati tra loro la proposta è quella di fare un'unica presentazione un'unica discussione poi votare per parti separate siamo d'accordo? sì consigliere un'unica presentazione di tutte e due sì poi facciamo un'unica discussione e votazione per parti separate sì allora posso iniziare quindi partirò dalla mozione che prevede una campagna di sensibilizzazione per l'allattamento al seno e la creazione di punti allattamento nei locali del municipio questa nasce all'interno di un ragionamento fatto dalla commissione delle elette per inserire dentro le nostre discussioni qualcosa che diciamo ci metta dentro una discussione molto più concreta e che parta dall'interno del municipio cioè abbiamo di solito sempre ragionato su qualcosa da fare all'esterno una campagna di sensibilizzazione può partire anche facendo una valutazione di ciò che un'amministrazione come un'amministrazione potrebbe dare un buon esempio e quindi farla partire da qua dentro da qui nascono diciamo le due proposte i punti allattamento diventano partono diciamo da una riflessione tra l'altro che ha interessato anche la nostra ormai ex ASL che è la RMB dove si è particolarmente attivato un progetto che si lega in particolar modo alla stimolazione e alla sensibilizzazione e ad incentivare l'allattamento materno che come abbiamo scritto è quello che considerato anche cifre e numeri ce lo dicono come l'elemento più indicato per lo sviluppo del bambino e per la sua crescita almeno nei suoi primi sei mesi ormai ci siamo guardati un po' guardandoci un po' intorno ci siamo resi conto che spazi commerciali anche molto grandi già prevedono al loro interno diciamo delle aree ma molto semplici basta un'area veramente separata ma dedicata in cui è possibile avere un'attrezzatura adeguata sia per il cambio sia per la necessità di allattare in qualsiasi momento abbiamo pensato che ovviamente il posto più frequentato all'interno delle nostre strutture delle nostre strutture perché parlo di questa come di via Fortifiocca sono gli spazi dell'anagrafico dove magari l'attesa anche se l'abbiamo migliorata con le varie nuove modalità però ovviamente potrebbe essere molto più lunga e ci potrebbe potrebbe servire potrebbe venire incontro alle esigenze del bambino così come della mamma e pertanto il consiglio con questa mozione il consiglio del municipio impegna la Presidente e la Giunta affinché proprio nei locali dell'anagrafico delle due sedi vengano allestiti due punti allattamento come aree confortevole per le mamme e i neonati che hanno bisogno di essere allattati o cambiati faccio presente che c'è stato un interessamento da parte dell'assessore Gian Siracusa che ha attivato anche con il personale quindi appunto con i due spazi dell'anagrafico la possibilità già di individuare le aree e quindi ovviamente dobbiamo solo ragionare a questo punto se capire come muoverci nelle maglie più complicate che sono quelle economiche se guardarci all'interno e quindi attendere magari un lavoro da poter fare con le prossime disponibilità economiche oppure se vederci magari addentrarci dentro sponsor o qualcuno abbiamo delle realtà che lo fanno già nel nostro territorio può contribuire a questa nostra proposta faccio presente che già un municipio che è l'ottavo tra l'altro vicino al nostro ha sperimentato i punti allattamento all'interno delle proprie strutture quindi niente di impossibile qualcosa quasi da ottobre del 2015 quando hanno aderito alla campagna per l'allattamento al seno tra l'altro la precedente assemblea capitolina insomma l'ultima assemblea capitolina aveva apprezzato la stessa iniziativa e aveva pensato di farlo dentro il palazzo senatorio quindi diciamo niente di impossibile niente di troppo diciamo caro anzi parliamo di qualcosa di veramente di pochi euro però diciamo messi a disposizione dell'utenza e quindi è una nuova forma di accoglienza l'altro l'altra mozione invece fa parte della stessa campagna che abbiamo chiamato così libere di muoverci perché così diamo l'idea che diciamo non abbiamo un qualcosa sopra di noi ma diciamo siamo abbastanza autonome l'importante è avere una città e anche degli spazi che siano in grado di accoglierle i nostri sforzi parlo diciamo da donna in questo caso e sono è una campagna di sensibilizzazione per avere i parchi girosa anche questa è stata una proposta che fu fatta è già stata avviata in diversi comuni italiani ma fu fatta dall'ultima una delle ultime nel 2006 dal comune di Roma che promosse proprio un'iniziativa chiamata parchi girosa ovviamente avviata per tutta la città quindi in collaborazione con gli assessorati alle politiche della mobilità con ATAC con l'agenzia della mobilità diciamo in questo caso il segnale qual è è almeno perché sappiamo che si può aprire una contraddizione perché da codice della strada non sono previste le strisce di colore rosa però ovviamente anche qui parliamo di un senso civico che andremmo a vorremmo perlomeno stimolare tra l'altro un'esperienza che era già stata avviata nell'ex nono municipio perché nei parcheggi di via fortifiocca sono già presenti è la possibilità per le donne in gravidanza di avere delle aree di cortesia chiamiamole così create apposta per la sosta e vengono a volte già localizzate o vicino alle farmacie o all'interno di negozi specializzati per bambini anche in questo caso l'idea era quello di far partire un progetto di sensibilizzazione dall'interno del municipio e quindi l'utenza ovviamente con un accordo che si fa nel momento dell'ingresso della donna è quella di destinare a lei alcune aree dedicate la linea è sempre la stessa è quella di voler creare una sorta di stimolare una campagna di sensibilizzazione di senso civico ovviamente ci auguriamo che la cittadinanza poi risponda nel modo migliore possibile e ovviamente chiediamo di creare i cosiddetti parcheggi rosa ovvero aree sosta dedicate alle donne in stato di gravidanza all'interno della sede municipale di piazza di Cinecittà ovviamente nelle aree già destinate a parcheggio quindi anche questo non avrebbe un costo e di verificare la possibilità di estendere questa iniziativa a tutti i presidi sanitari a via dei Levi dove c'è un consultorio nella zona davanti già ci sono magari nelle altre aree dove ci sono presidi sanitari sarebbe possibile allestire aree di questo tipo e quindi vedere presidi sanitari regionali ed in convenzioni che sono presenti sul nostro territorio e poter avanzare questa nostra proposta ci sono sembrate due proposte che non vanno a gravare economicamente perché parliamo veramente però crediamo che siano dei segnali concreti che possano dare l'idea che questa è un'amministrazione che ha anche un'attenzione diversa non lo dico con una nota polemica però per chi un po' si lamenta dei lavori della commissione delle lette a me dispiace a me dispiace invece e voglio far notare che alla fine è un bene e lo è nella sua vocazione perché è previsto dallo statuto proprio andare a sollevare quelle tematiche che magari nelle commissioni competenti sfuggono perché ci sono altre priorità e pertanto io spero che venga ulteriormente fatta lavorare diciamo dopo di me dopo di noi perché credo che invece abbiamo diciamo reso diciamo molto più esatto abbiamo cercato di rendere molto più semplice e pratico con un linguaggio molto più pragmatico cose che veramente in altri momenti in altri casi possono essere sfuggite possono essere state dimenticate e invece hanno la loro importanza quindi spero che anche il consiglio oggi le accetti grazie consigliere Vitrotti consigliere Matrono dunque voglio fare un complimento a tutte le mamme allora come al solito questo municipio parte sempre con la terza marcia ma è che la prima marcia perché questa è una cosa che dovevamo fare due anni fa forse due anni e mezzo fa o addirittura ho capito però è colpa mia Savitrotti è rimasta incinta adesso scusate però poteva farlo anche la presidente Fantino visto che anche lei è stata coinvolta la Gian Siracusa anche lei è giusto ma a me non mi avreste fatto passare perché non faccio parte della commissione delle elette però voglio dire lasciatelo passare ma a parte questa è una battuta sono contento perché per carità riservare uno spazio sia un parcheggio che un luogo per allattare vedere queste mamme che insomma a mezzo alla gente col fazzoletto che si come a me sembra una cosa anche se è una cosa bella vedere all'attare però purtroppo a tanti fa piacere a tanti no non lo so perché però è così allora voglio dire però il problema è questo perché dico dobbiamo partire un po' prima perché noi a dicembre di quest'anno del 2015 abbiamo perso circa 16 o 17 mila euro proprio per la segnaletica verticale verticale dove noi con qui 17 mila euro avremmo potuto dico avremmo potuto riempire il nostro parcheggio il nostro municipio di parcheggi rosa però la nostra burocrazia non so chi è stato o chi non è stato ci ha consentito a questo municipio ancora una volta di arrivare secondi perché perdere 17 mila euro per la segnaletica verticale senza una motivazione ben fatta adesso ci troviamo ci troviamo e sono felice perché vengono sono ben felice che vengono le le parcheggi rosa per carità però già erano partiti nei centri commerciali centri commerciali è previsto io credo e ho sbagliato e lo posso me ne faccio carico pure io perché non ci ho pensato forse 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 non so non so stato coinvolto principalmente e allora non ci ho pensato però posso dire che qualcuno qualcuno ci poteva pensare molto prima qualcuno ci poteva pensare molto prima ma no perché pure percelare i fatti magari che ne so a consigliare a Vitrotti diventa presidente e giustamente c'ha bisogno di essere di allattare mica se può mettere in mezzo a tutti al meccanocratico e zitta allora allora no detto questo fermo fermo mi riprendo rientro rientro dentro e l'augurio scusate presidente ma lo vuoi spegnere dall'aula vedere questo municipio tutto rosa con tutte queste consiglieri di sinistra che mettono al mondo questi bambini meno male perché uri di destra no no non c'è uno qua scusa da questa parte purtroppo solo noi la prossima consigliatura stanno guardandosi da fare parecchio scusate per cortesia allora per favore allora voglio dire ben venga questo ben venga te stai anche a presidente della commissione dell'elette ben venga però però io non ho letta la mozione però avrei fatto un atto un po' più forte anziché rimandare con questa mozione sempre sta presidente che si deve impegnare ma impegniamo una volta al consiglio da voi una responsabilità al consiglio con un atto forte dire il consiglio risolve vuole questo punto e basta viene trasmesso viene trasmesso agli uffici tanto i soldi ci stanno perché grazie a dio anche se io non l'ho capito perché qui dentro questo municipio purtroppo si fa carta vince e carta perde perché perdiamo un appalto di 140 mila euro ne recuperiamo 36 per la segnaletica orizzontale ne riappaltiamo 240 ma non si riesce a capire però non si vedono mai questi soldi voi stanno pare che stanno arrivando un po' le strisce bianche non rosse quelle ancora no però le strisce bianche allora voglio dire risolvete anziché mettere tutte queste belle firme tutte delle lette che vi porta pure giustamente un po' di forza fate un atto più forte trasformate la risoluzione impegnate impegnate sto municipio impegniamoci noi noi consiglieri visto che noi visto che prima quello che è successo prima è stato deludente perché non si è capito quello che è successo per non approvare delle commissioni quello che è andato è andato tutto quanto a monte credo che abbiamo bloccato per circa 10 giorni 8-10 giorni la nostra attività politica se tutto va bene se tutto va bene la riprenderemo la delibera viene pubblicata all'1t dall'1t scattano i 10 giorni apposta quindi 10 giorni quindi fino ai primi di marzo al 29 noi stiamo fermi bloccati perché qualcuno qualcuno per far dispetta la moglie ha fatto quello che ha fatto ma ci può anche stare comunque ci può stare comunque condivido pienamente quello che hai fatto il mio messaggio era quello di far un atto ancora più forte perché secondo me con questi pezzi di carta visto che qualcuno prima quando c'erano i cittadini di via spatola mi ha detto ma tanto la mozione a che serve e me l'ha detto uno della vostra maggioranza quindi allora io dico se la mozione non serve risolviamola questa mozione e facciamo una risoluzione magari tanto non c'è impegno di spesa perché solo su solo sui parcheggi rosa ma se i parcheggi fanno parte della segnaletica o una delibera ancora meglio adesso che per forza magari magari visto che l'attività politica è bloccata sarebbe stata una cosa più bella per voi per tutti alla festa delle donne l'8 marzo invece con il coso femminile con la roba lì femminile venivamo che era amicosa grazie consiglio matrono grazie no scusate grazie termino per favore anziché di quello venivamo venivate tranquillamente con una bella delibera fatta bene dove il municipio il consiglio delibera di fare questo questo e questo credo che la situazione sarebbe stata molto più veloce perché con questa situazione secondo me queste sono le parole che ha detto uno della vostra maggioranza non l'ho detto io con una mozione non ce fanno niente che ha detto pure ai cittadini che ce fanno con una mozione punto grazie altri interventi consigliere Caccomo prego qualcuno ha detto che potevamo che potevamo pensarci due anni e mezzo fa però l'importante è che ci abbiamo pensato e questo documento è arrivato oggi in aula io mi è venuto in mente questo pensiero in questi ultimi anni c'è stato un forte calo demografico anche per mancanza di strutture di supporto necessaria ad agevolare la maternità specialmente per le donne che lavorano quindi nel nostro piccolo nel piccolo della nostra commissione delle lette abbiamo pensato di chiedere queste due cose che non sono cose che comportano grandi spese che però secondo me aiutano a ridurre le difficoltà che affrontano oggi le mamme tutto qui grazie altri interventi no passiamo a dichiarazione di voto ci sono dichiarazioni di voto scusate non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione allora parti separate mozione numero 7 parcheggi rosa chi è favorevole chi è contrario nessuno chi si astiene nessuno 14 voti a favore passiamo all'altra votazione allattamento nel locale del municipio Roma 7 chi è favorevole chi è contrario chi si astiene nessuno di approvato con 14 voti a favore nessun contrario nessuno astenuto abbiamo finito quindi consiglio che io se ricordo quindi che la delibera sulla commissione verrà pubblicata lunedì e più tardi martedì poi ci sono 10 giorni di tempo in cui le commissioni non possono lavorare bene grazie buonasera a tutti non Grazie a tutti